Buongiorno a tutti ragazzi, noi siamo sempre qui in hotel a Piediluco, ma stiamo per raggiungere la cascata delle marmore. Per la precisione il belvedere inferiore, infatti partiremo da lì per poi salire a quello superiore. Che figata, non vedo l'ora di vedere le cascate, però devo dire che c'è una visuale da questo albergo incredibile. Quando scriverò alle mie memorie verrò qui, stanza 302 Piediluco, mi guardo il paesaggio e scrivo. Sarà il mio periodo poetico. Siamo appena arrivati al belvedere inferiore, abbiamo parcheggiato e ora vi svegliamo quale sarà il nostro piano per la giornata. Lo svegli anche a me. Ok. Prima cosa, prendiamo il sentiero principale, vorrei il primo, il sentiero numero uno. Non lo dire, dal toce, sennò poi ci copiano tutti. Per andare su al belvedere superiore, poi arriviamo in cima, ci godiamo il panorama, mangiamo, aspettiamo il rilascio dell'acqua che dovrebbe essere verso mezzogiorno una. Riscendiamo, quindi rifacciamo il sentiero uno, torniamo appunto al belvedere inferiore e lì possiamo completare i sentieri due, tre e quattro. Il cinque e il sei. Il cinque e il sei, li tagliamo. E mi raccomando, in realtà è importante perché non andate da sopra, dato che ho un leone, scusate, che mi sta tirando, ma non andate da sopra. Perché? Perché come consigliano anche qua, mi scusi l'abbraccio ma sto avendo un po' di difficoltà con questo leone. Perché se voi partite da sotto, voi siete ovviamente energici e potete andare sopra. Se invece partite direttamente da sopra, scendete tutti belli, freschi, ma qua non si tratta di rifarvi quanti, 600 e passa gradini per risalire. A meno che le vostre gambe non supportino la voglia di vivere, non ce la farete mai. Quindi partite sempre da sotto e soprattutto scegliete una giornata nuvolosa. Come questa. Proprio come questa. C'è un problema. Whisky, che succede? Dai, a paura delle grate. Andiamo, su. Andiamo, Whisky, dai, non c'è niente. Così. Eccoli, bravo. Così. Bravo. Quando parliamo di gradini, circa 600, sono questi. Ecco perché consigliavamo di partire dal primo sentiero, perché siete freschi, quindi ce la fate. Via. Così. 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 Ragazzi che spettacolo abbiamo assistito al rilascio dell'acqua ed è stato meraviglioso Cioè siamo passati da una cascata normale, è praticamente un getto d'acqua fortissimo Ora prima di andare a mangiare ci facciamo due passi nel sentiero 5 per vedere che cosa ci presenta, che cosa ha da offrirci E poi torniamo giù, quindi al sentiero 2, 3, 4, però non prima di aver mangiato perché la fame comincia a farsi sentire Guardate, ora si vede la nostra macchinuccia, eccola lì, quel puntino rosso Eccoci qua, ora stiamo ripercorrendo il sentiero 1 al contrario per tornare al belvedere inferiore Dopo ieri della basilica di San Valentino dove ci siamo giurati eterno amore Oggi l'ho portato al balcone degli innamorati, anche se continuo a fare il sostenuto Ma tanto mi amerai, mi amerai alla fine di questa gita Allora non avrei dato 2 lire al sentiero numero 3 Invece è molto breve ma anche molto molto carino Quindi consigliato Un po' di fiatone Maremma ci stiamo inzuppando tutti Oddio, che figata Ragazzi siamo sopravvissuti al secondo sentiero che è spettacolare Cioè da fare quando c'è il rilascio dell'acqua perché è veramente meraviglioso Non so se si è capito però ci siamo un po' bagnati diciamo Mentre eravamo lì perché è arrivato tutto il vapore acqua che arrivava dal belvedere superiore e dal salto Poi i sentieri diventano migliori un esempio perché il primo grande aspettativo è bellino Però il terzo è rinfrescante, molto carino Ma il secondo se capitate veramente quando rilascia l'acqua e avete un poncho o un kiway È da fare assolutamente, vi bagnate ma è un divertimento incredibile A meno che non c'è whisky, in quel caso potrebbe essere un problema Però per il resto si fa A questo punto abbiamo altre aspettative per il sentiero numero 4 Che sarà il nostro ultimo sentiero della giornata Oh yes Andiamo C'è un po' umido Credevo di averla fatta franca e invece Abra! Abra! Grazie a tutti. Grazie. Sì, ma che vista incredibile. Cioè qui alla penna rossa, come si chiama? Pesca rossa. Si chiama, guarda che riprese, questa è il puro postmodernismo. Comunque non so cosa stiamo dicendo, però so solo una cosa, siamo abbastanza provati ora, quindi nel senso se fino al sentiero 4 eravamo belli arzilli, ora la fatica si fa sentire tutta, però guarda che spettacolo. Classifica sentieri. Classifica sentieri. Primo posto, secondo. Secondo posto il quarto sentiero. Terzo posto il terzo sentiero. Ultimo posto per il primo sentiero. Non è un brutto sentiero, però serve soltanto per farti andare dal bel vedere inferiore al bel vedere superiore. Quindi non limitatevi soltanto a fare il primo sentiero perché c'è tanta altra roba bellissima in questo meraviglioso parco. E lei? Che vuole dire? Così? A caldo? Vuole dire qualcosa? No. Mi sembra come sempre molto contento di esserci. Siamo sopravvissuti, siamo tornati alla macchina. È stata un'esperienza meravigliosa, quindi consiglio a tutti voi di venire qua alla cascata delle marmore perché ne vale davvero la pena. Non siate pigri. Non siate pigri, non ce la faccio più. Prima mi ero scordato di nominare anche il sentiero numero 5 che comunque è molto carino perché dà sul, diciamo, su un altro tipo di veduta, non sulle cascate ma appunto sulle valli circostanti. Però comunque merita e lo metterei al penultimo posto, ecco, non so te. Ecco, è uguale alla nostra passività? Identica. Identica. Ma nemmeno io avevo pensato al 5 anche perché l'hai appena detto, scusami, non è facendo parte delle cascate. Sì. Posso provare a fare una chiusura che poi mi odierai? Sì. Però poi non mi dire dietro le quinte, ah dove evitare, eh. Ok, intanto noi ora bisogna andare in hotel. Ok, allora chiudo così. Ecco, a posto. E ora, dopo che ci siamo un pochino riposati e ripuliti e rivestiti, siamo pronti per andare a mangiare, diciamolo. Ce lo siamo meritati oggi perché abbiamo fatto una bella scalpinata. Quindi andiamo a strafogarci. Allora ragazzi, questa sera ho voluto fare le cose un pochino strane perché ho preso un primo di lago, in questo caso non di mare, perché ho preso le tagliatelle con persico reale e funghi porcini. E invece come secondo, un po' di rosticini. Sono due cose che fanno a botte, però c'avevo voglia. E anche oggi abbiamo mangiato benissimo al ristorante, quindi ve lo consigliamo. Detto questo, questo video giunge al termine. Noi siamo molto stanchi, però spero che questo vlog vi sia piaciuto. Le marmore, la cascata delle marmore è stata splendida. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad una prossima avventura e ad un prossimo video. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.